Per chi hai scritto la canzone? Non c'è più. È morta? No, non è morta. Non c'è più. Mio padre suonava in un'orchestra al mio paese. Non ti va di fare quattro passi, eh? Vuoi restare? Devo andare adesso. Resta con me. Come si dice in cieco, lo ami? Milo yesho? Allora, milo yesho? Milo yo tebe. So, if you ever want something, when you call, call, then I'll come brought in. Yeah. No.